Roger Ibagnaz se ne sta andando Quando l'ho letto non ci volevo credere Cioè regà, calciomercato Roma Ibagnaz verso la Premier 25 milioni Oh io, ma coperto Oh io non voglio farvi passà, voglio farvi pensà Regà 25 milioni Offerta, offerta del Nottingham Forest per Ibagnaz Questo è il momento, questo è il momento Ibagnaz, cazzo, la chitarra Ibagnaz, Sikwulf Super sfogo, coprofago Lazio, Roma 3 a 0 Ibagnaz, mai fatto, magnà Che m'ha fatto, magnà? Ah la merda, m'ha fatto, magnà la merda Ibagnaz, voto 2 Roma, addio champion, sono preoccupato Super sfogo, Ibagnaz al derby, mai più Romagnoli, insulte, Mancini, esce, nudo Super sfogo, risveglio muscolare Ibagnaz, come diamine, hai fatto Ibagnaz, voto 0, pazienza finita Eccolo mentre vota 0, lui non so se lo vedete, in miniatura Super sfogo dallo stadio, Roma-Lazio 0 a 1 Ibagnaz non deve giocare mai più Roma fuori dalla Champions, Ibagnaz da vendere Roma-Inter 0 a 2 Super sfogo, sfogo proprio Quotato 1 a 0, 1 Ibagnaz, Lazio-Roma 1 a 0 Aspettate un attimo, come super sfogo basito Ibagnaz e della Roma la reazione di un tifoso Giallo-Rosso Cioè io avevo già previsto tutto, regà Super sfogo basito Regà se è super sfogo basito devo fare un video reaction Però, 4.000 mi piace qui sotto Oppure vi iscrivete al canale, arriviamo a 486.000 iscritti E stiamo a posto così Sono furioso, Abram adesso basta Voto 4, Ibagnaz non è da Roma Super sfogo, siamo dei culli Lecce-Roma 1 a 1 Ibagnaz stanno, non gliela fa Sì, qual fa si arrabbia con gli scarpini di Ibagnaz Ma in che senso? Ma poi perché c'è Fusegamer in copertina? Vabbè, comunque, regà Ibagnaz se ne va Ma a parte tutte le stronzate che ho detto, no? È il momento di festeggiare Di metterci una collana giallorossa di alloro Di mettersela doppia No, doppia è meglio che no Evitiamo Ma come ho fatto a mangiare a me i capelli? Ecco, sono pronto Festeggio Per fare Per fare la miniatura, vai E soprattutto Soprattutto, regà No, a parte tutto Parliamo un attimo seriamente di Roger Ibagnaz Che posso dire Con grande tranquillità E con tutto l'amore del mondo Che io posso provare Che questo ha fatto più danni Dalla grandina Roma Ha fatto più danni Più danni dei rode Dei buche ai rode Dei macchine Cioè, perché se posso dirlo Io lo dico Se non posso dirlo Se poi il problema è dirlo Non diciamolo Ma per me è una cazzata Se non lo si dice Ibagnaz ha oggettivamente Sbagliato tanto a Roma Poi era di futuro certo Sì, sì È giovane, sì Diventerà forte Sì Ma a me non me ne frega niente Ma che mi diventa forte Ma a me diventasse forte A trepparmi dal culo mio Con tutto il rispetto, no? Allora Premessa che a me Quando Ibagnaz è arrivato Non il giorno in cui l'abbiamo preso Poi faremo il video reaction Ma quando Ibagnaz Insomma, ha messo piede Per la prima volta a Roma E l'ho iniziato a vederlo in campo Ha detto Ma questo è bravo E tecnicamente è bravo Il problema è che ogni tanto Gli esazzere il cervello Non ce capisce più niente Io vampò per il cervello Non riesce a fare più 2, più 2 Più 2, più 2 E ci voglio andare con cognizione di causa Si voglio andare in Champions League E voglio trovare una continuità di rendimento Io non posso stare presso Ai Bagnaz che sbaglia Ogni 3 per 2 Eh ma il suo problema è i derby Ma hai detto poco Quando perdiamo un derby Le partite dopo non le vinciamo mai Oh guarda E poi uno sempre dice Le cazzate, no? Lazio-Roma 3 a 0 Qua abbiamo perso 3 a 0 No? Poi abbiamo perso 2 a 4 Con Spezia Poi abbiamo perso a tavolino Con la con Spezia Abbiamo vinto 4 a 3 Per miracolo con Spezia Ok, vinto con Verona Perso Cagliume Pareggiato con Benevento Perso con Milan Cioè ogni volta così Allora vale poco Vale poco perdere un derby a Roma Cioè io so d'accordo Con quelli che dicono Che appena riuscimmo a smettere Pensare che i derby Valgono più dei 3 punti Fama la svolta Sì, ok Ma fino a che psicologicamente Valgono più dei 3 punti Effettivamente Tu non mi puoi fare una cappella Ogni derby Allora i derby Non me li giochi Poi Vogliamo dire che È di prospettiva È di futuro certo Ma a me va bene Ma certo che possiamo dirlo Ma chiaramente Però allora Mi viene anche a dire Che ci sono mille giocatori Più Più intelligenti Che non cascano Quando le partite contano I bagnets Quando la partita conta E fa il cagetta Fa oggettivamente il cagetta I bagnets Quando la partita conta E questa è una cosa Che non me sto a inventare io E vi ho fatto vedere prima Nei video Toh, so curioso Voglio vedere questo Vediamo questo Non c'ho parole Io non Io Non c'ho parole Io non c'ho parole Io non ho parole Cazzo Io non ho parole Cazzo Non ho parole Non ho parole Comunque io non ho parole Nel caso in cui non si fosse capito Ciao Non ho parole Ma si può affrontare un derby così Ma si può Ma vi dovete vergognare Ma vi dovete vergognare Non abbiamo visto la porta Nemmeno per sbaglio Nemmeno per sbaglio Abbiamo visto la porta Manco col cannocchiale Io Allora Facciamo da un presupposto importante I bagnets Se il derby non lo senti Stai a casa Stai a casa Nessuno ti giudicherà Se il derby non lo senti Ma non scendere in campo Non scendere in campo E questo non è sentire troppo il derby Non è sentire troppo il derby E non sentirlo affatto Questo è il derby E non sentirlo affatto Perché se tu senti il derby Lo hai visto? Paolo Lopez Che per quanto possa essere spagnolo E non gliene frega un cazzo Il derby lo sente? Non ha mai pensato Non ha mai pensato Mai Di poterti mettere a fare il coglione Con la palla Ogni volta Prendeva e buttava giù A cazzotti E nessuno Ho visto dietro Che facesse il coglione Con il pallone Perché tu lo sai Che a Roma A Roma Il derby ti costa la carriera Sapete Quanto ci ricorderemo Di quello che ha fatto stasera I bagnets Può capitare Ragazzi miei A parte che è sceso A giocare con i fottutissimi pattini Sempre per terra stai Ma vuoi stare in piedi Ma metti massa muscolare Sulle gambe Se non ce la fai I commentatori dicevano E che partita Manuel Lazzari E quanto è forte Manuel Lazzari Sia chiaro A me piace tantissimo Come giocatore Manuel Lazzari E' fortissimo Mi piaceva c'è i tempi della Spal E me lo sarei preso alla Roma E lo convocerei anche in nazionale Ma se davanti c'è uno Che scivola ogni tre per due Raga Lazzari Lazzari Anzi Anzi Che cazzo è successo I bagnets Lazzari I bagnets Lazzari Mi spiegate perché I bagnets C'ha palla Qui Lazzari sta lì E I bagnets Non riesce A spazzare La palla Perché Perché non riesce A spazzare la palla Perché Perché non riesce A capire Che sta arrivando Lazzari A tamponarlo Dal bucio di culo Perché non ce la fa Ho messo pausa Raga perché Mi è risalito il cortisolo E quello ero io Ma ora Non lo sto facendo Comunque torniamo seri Io vi dico la verità La Roma Se facciamo un'analisi Poi intelligente Ha preso comunque Calciatori come Ha ripreso Llorente C'ha Smalling C'ha Mancini E ha comprato un Dicà Per me un Dicà È per 10 Rispetto a Di Bagnets Non è cattiveria Ma io la vedo così Smalling e Mancini Sono più titolari Rispetto a Di Bagnets E addirittura Llorente Era riuscito a togliere Il posto a Di Bagnets Cioè quindi Tenerlo avrebbe poco senso Certo dovrebbe sbrigarsi A tornare con Bulla Quando torna con Bulla Allora Porca puttana Non tornerai in campo Prima dell'inizio Del 2024 6-8 mesi Intanto gli faccio I miei grandi auguri Perché è diventato padre Comunque dicevo Cung Bulla Non è un difensore Che tutto sommato Cioè non è forte Meglio i Bagnets Però comunque Lì è rotto I Bagnets Non è un giocatore Che ci teniamo In questo momento Non ci facciamo nulla Cioè se tu devi rifiutare 25 milioni Per avere Un quinto difensore Piuttosto gli dico Ci adattiamo Quando serve Selic Oppure mi prendi Un paracarro di merda Svincolato Parametro 0 Di 35 anni Me lo metti là Tanto devi fare sempre panchina Perché comunque I titolari ce li abbiamo E quei soldi Potrebbero sbloccare Qualche trattativa Soprattutto se Quel simpaticone Di Falcao Che è stata una bandiera Della Roma Ma a noi tutte Le bandiere ci sono ridono Smette di si ritira E non c'è modo Di fare l'affare Con il Santos Offerta della Roma Era bassa Ma va a fa un gulo Oh via Argranata Bono Beh quindi insomma Detto tra noi La situazione è questa Raga Cioè è questa Noi smettiamo di perdere i derby Anche perché a me Mi sembra che Sponda Lazio Se stia un po' a perdare La situazione La situazione è qui Con i Bagnez Quindi meglio che se ne va pure lui Se no se rovina Detto questo Aspettiamo L'offerta effettiva Aspettiamo i soldi Che arrivano Aspettiamo tutto quanto E poi Potremo finalmente Ridere E godere di gusto Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale E noi come sempre Ci vediamo ad un prossimo video C'è una cosa però Fammi vedere prima Se ci sono aggiornamenti Roma La gente di Bagnez Roger vuole restare Nessun offerto Dalla Premier No Che sta arrivando Lazzari a tamponarlo Dal bucio di culo Perché non ce la fa Perché non ce la fa Due volte Due volte Perché due volte Ha segnato la Lazio Perché nel secondo tempo Io ho detto Ora O il Bagnez Scende in campo Con due corigioni Grossi Così Pelosi Oppure Probabilmente Il mister Lo toglierà E scendo in campo Ho detto Probabilmente Deve aver fatto un discorso De quelli motivazionali Che il Bagnez Adesso Distruggerà tutto Un minuto E riscivolato Ma come cazzo fai? No Come Cazzo Si Fa Come E qualcuno L'ho letto L'ho letto Caicedo è il fuorigioco Ma che cazzo Me ne frega a me Cosa cazzo Me ne frega Il fuorigioco Tu manco dovevi guardarlo Caicedo Lì manco ci doveva arrivare Caicedo Lì non ci doveva stare Perché tu quel pallone Prima te lo sei fatto Eri in vantaggio Te lo sei fatto In culare Due volte Poi sei cascato per terra Ti sei alzato E mentre Ti sei cascato per terra Ma che giochi? Ah Calcio come cazzo Saponato Santo cielo Tio Tio